Beh, chiudiamo la mattinata con uno speaker giovanissimo. Sei anni fa io facevo il mio primo talk al PyCon, vincendo il premio come mascot dell'associazione. Sono appena stato detronato da Antonio Spadaro, un programmatore Python giovanissimo, usa Python da due anni. Ha preso da poco il suo diploma di licenza media superiore. Ah, wow, fantastico! E ci parlerà di come comandare un robot con Python. Tuo. Grazie. Buongiorno a tutti, oggi vi parlerò di come comandare un robot con Python. Allora, iniziamo vedendo il robot. Il robot è questo qua che vedete nelle slide. E' costituito da un Raspberry Pi e delle ruote, dei motori con delle ruote. Potete vedere un'altra immagine. Cosa può fare questo robot? Questo robot principalmente può, viene controllato da remoto, cioè dal computer, via socket. via socket. Può registrare e fare lo streaming della telecamera che è montata sul robot. Può riconoscere le persone, cioè c'è il riconoscimento facciale, del corpo e tutto. Poi può fare anche, volendo, le riprese da terra, registrando la videocamera. L'hardware, come dicevo prima, è composto da un Raspberry Pi, una P-camera, per connessa tramite il CSI, che sarebbe il Camera Serial Interconnection, quattro motori DC a corrente continua con delle ruote, e due H-Bridge, che fanno da driver per controllare i motori. Ne ho usati due perché ne posso controllare quattro ciascuno, però siccome i motori li controllo bidirezionalmente, cioè vanno sia avanti sia indietro, ne devo usare per forza quattro. E' un sensore ultrasuoni che uso per non farlo sbattere contro i muri, cioè che quando si avvicina verso un muro, rileva che è vicino a un muro e quindi lo ferma. Come altro ho usato una chiavetta, una pendrive Wi-Fi, come un ripetitore Wi-Fi, perché non ho un Raspberry Pi 3, ho usato un Raspberry Pi 2, perciò non ha qualcosa per mandare segnale Wi-Fi, mandare e ricevere segnale Wi-Fi. Volendo si potrebbero aggiungere anche vari sensori per ampliare l'utilizzo di questo robot, come ad esempio un sensore di umidità, di temperatura, per controllare lo stato di un luogo, se fa troppo caldo, troppo umidità. Poi, perché non ho usato Arduino? Mi sono trovato davanti a queste due scelte. Un Raspberry Pi, potente, veloce, abbastanza veloce, grande, però che consuma molto. E un Arduino, che è un po' più piccolo, però è anche meno potente, perché rispetto a un processore, un microcontrollore con un clock di 16 MHz, è molto... Infatti il Raspberry Pi ha come Pro, sì, intanto si può avviare Python su DS, è economico, ha il Camera Serial Interconnection per connettere una telecamera, che l'Arduino non ha, è piccolo, perché l'Arduino, comunque, se dovesse fare quello che fa un Raspberry Pi, dovrebbe avere molti moduli, tipo un modulo Wi-Fi, un modulo per la telecamera, e, cioè, diversi moduli, che ora non ve li sto a allencare tutti, perché neanche me li ricordo. Però, come contro, il Raspberry, per avviarsi, ci sta a 14-15 secondi, più o meno. Perciò è lento all'avvio. Non è adatto per la scala industriale, perché, oltre che costa molto, poi chiunque potrebbe magari smontarselo e si prende lo Raspberry, da una qualsiasi macchinina. E i GPIO lavorano solo a 3,3 volt, invece quelli dell'Arduino lavorano a 5 volt. L'Arduino, come Pro, ha l'avvio veloce, è adatto per una scala industriale, perché comunque si prende il microcontrollore, lo si monta su una piastra dove si monta il microcontrollore con tutti i pezzi, viene anche forse più piccolo, magari viene un po' più grande e ridimensionato. Però, come contro, è troppo grande, perché, come ho detto, ci vorrebbero tutti i moduli, modulo Wi-Fi, modulo per la telecamera, poi cos'altro ci vorrebbe... modulo per la scheda, per registrare su una scheda SD. come altro contro, ha che avrebbe bisogno di questi moduli, perciò sarebbe più grande. E comunque è anche molto meno economico, perché comunque l'Arduino costa 20 euro, poi magari i moduli costano altri 20 euro, 40, 60. Passiamo al lato software. Come potete vedere, il software è basato su tre GUI principalmente, un core, un server socket che si trova sul Raspberry Pi che riceve i dati dalle GUI, un server socket per la telecamera che manda le immagini in formato in string, o le manda alle GUI, e le tre GUI che sono Kiwi e Pygame, sono lato computer e smartphone. Fresco invece è lato E, sullo Raspberry Pi da server, e poi si connette da cellulare o da computer. i sensori sono un sensore ultrassuoni, che per non farlo sbattere contro le pareti, e un accelerometro, che volevo utilizzare per stabilizzare la videocamera, cioè per non farlo tipo in salita, la telecamera stava fissa guardando un obiettivo, nonostante il robot si inclinasse. Come hardware ho i quattro motori, perché ha quattro motori, ha quattro ruote motrici praticamente, e i servomotori che vuole usare per questa stabilizzazione, che però ancora non sono riuscito a montare, per mancanza di tempo più che altro. Il server socket riceve quindi i comandi dalle GUI, che possono essere per regolare i motori, i servomotori, o per avere delle info su di essi, oppure sull'accelerometro e sul sensore ultrassuoni. Siccome ovviamente il motore non è collegato con dei fili al computer o al cellulare, quindi usa un protocollo di comunicazione, dovevo scegliere tra Wi-Fi e Bluetooth. Vedendo online, vedevo che il Bluetooth consumava di meno, però era molto più lento, soprattutto per l'invio delle immagini. Aveva un range di distanza minore e poteva sopportare meno dispositivi, il che non è una complicanza, però comunque è sempre qualcosa. Mentre il Wi-Fi poteva inviare immagini anche ad alta risoluzione, ha un range di distanza molto maggiore, e i Davis sono di più, anche se comunque non serve che siano di più. Oltretutto usa il server socket, usa i GPU, i leggoi sono connessi al server socket, che usano i GPIO, per comandare i servomotori e i motori. I GPIO sono General Proposed Input Output, cioè delle porte o dei pin, in questo caso nel Raspberry, che servono a mandare o a ricevere dati, o in questo caso elettricità. Perché si possono ricevere anche elettricità, perché come possiamo vedere qua, nei pin del Raspberry, in questo caso non ci sono scritti, però i GPIO 15 e 18 sono connessioni seriali o con altri esterni, con altri dispositivi. Questi qua sono i GPIO del Raspberry, e io ho usato quelli da 5 volt per alimentare i motori, e gli altri sono usati 2 per la velocità, anzi 4 per la velocità dei motori, e 4 per la velocità dei motori, e 8 per controllare la direzione dei motori. I moduli che ho usato per il Raspberry sono rpi.gpio, che è quello ufficiale, è rpi.pvm, che mi è servito per regolare la velocità dei motori, perché in pratica per regolare la velocità dei motori si usa questo modulo pvm, che regola la velocità, l'intensità con cui viene mandata la corrente. Perciò ho usato questo modulo, invece di quello che era integrato in rpi.gpio, perché quello la mandava sempre segnali diversi, perciò magari un po' prima andava un po' più veloce, poi andava un po' più lento, e veniva un po' difficile anche controllarlo. quindi rpi.gpio l'ho usato per accendere e spegnere, accenderli e spegnerli, e per controllare quindi la direzione dei motori, perché a seconda del gpio che si accendeva, che si spegneva, il motore andava avanti, indietro, oppure si fermava, se erano tutti e due accesi o spenti. rpi.gpio.gpio l'ho usato anche per ruotare i servomotori, perché serve a... viene usato che manda un segnale al motore, e il motore ha il servomotore, e il servomotore a seconda del segnale ruota, ha un grado presciabilito. La telecamera, inoltre, fa anche... che mi ha i dati con il server socket, ha anche... supporta anche il riconoscimento facciale, con OpenCV. OpenCV è l'acronimo di Open Source Computer Vision, che è usato per... è usato per arte interattiva, robotica, ispezione di luoghi e tutto. Adesso supporta Python, Java, C++ e C, e originalmente è scritto in C++, però poi ha avuto diversi porti come Python, e anche degli esistenti operativi come Windows, Linux, Mac, Android, quindi volendo si potrebbe fare anche una piccola app per Android, che è con Kiwi, appunto, che è riconoscere le facce, perché il riconoscimento è fatto lato client, perché comunque carica molto il computer. Qua possiamo vedere degli esempi di riconoscimento facciale con dei file, riconosce lo smile, perché in pratica trova e ha degli schemi, e se vengono tutti accettati, allora lo dà per buono la faccia. Riconosce Guido, che è il creatore di Python, come tutti sappiamo. Ha anche i pythonisti, le maglie gialle. Vabbè, perché ha la testa un po' girata, credo. Perché comunque alcuni riconosce anche gli occhi, come potete vedere, e anche dei disegni, delle disegni di persone, di facce e tutto. Qua, se volete, c'è un video che spiega come riconoscere le facce, come fa riconoscere le facce. Praticamente parte e ha quadrati di una dimensione già prestabilita, dimensione minima, che solitamente si sceglie, perché se non c'è la dimensione minima va troppo lento il riconoscimento. Cerca tutti, cerca se è compatibile con tutti gli algoritmi per riconoscerla. Come vedete, per ora, la compatibilità è al 45%, 22%, non riconosce niente, ma appena arriva, partiamo un po' avanti, appena arriva alla ragazza, già un po' rallenta, perché riconosce qualcosa, quindi fa controlli più specifici. Ora, se vedete, qua dovrebbe riconoscerla, forse qua. La compatibilità qua al 72%, qua al 68%, qua al 100%. quando la riconosce, OpenSV lo fa, ovviamente questo non si verrà quando l'altro client, quando viene avviato la GUI, non si verrà che farà questi quadratini, però fa dei quadratini in cui si ricorda che là c'è una faccia, ha riconosciuto una faccia, qua ne farà altre, forse un po' avanti, qualche 4 minuti, e fa altri quadratini. Appena finisce, fa un quadrato un po' più grande per capire se la faccia è solo quella oppure può essere qualcosa in più, o basta veloce, perché comunque là non c'è niente. E qui, ora, cerco di riconoscerla. Se vedete, qua è al 100%, perciò la riconosce. Appena finisce questo, fa il quadratino, come abbiamo detto prima, e porto un po' più avanti, e fa, provo con una dimensione ancora maggiore. La dimensione maggiore non trova compatibilità massima, perché comunque c'è il cappello, i capelli, e quindi la salta, cioè, dice, va bene, più di così la faccia non può essere grande. Finisce di scanzionare tutta l'immagine, però anche quella ancora più grande, perché per scrupolo, e trova la faccia, che è quella rossa. In questo caso, ora vi farò vedere, prossima, più, verso la fine, una demo di questa, del riconoscimento, facciale. Non tutto era già fatto, perché tipo, pensi via una libreria, rp.gpio, era un'altra libreria, però, io ho dovuto scrivere i moduli, per controllare i motori, e i servomotori, per capire quanto era distante dal muro, il robot, quindi con il sensore del trasuoni, in più ho dovuto scrivere il server, che invia i dati alla telecamera, al client, e il server, che riceve i comandi, dalle GUI, per controllare i motori, e ricevere informazioni. Quindi, ho dovuto scrivere anche il client, le GUI, che riconoscevano le facce, ho dovuto trovare il database, perché OpenCV usa dei database, a seconda dei database, riconosce le facce, può riconoscere oggetti, figure, forme, qualsiasi cosa. Poi, ovviamente, c'era anche un'altra libreria, che si chiamava Dlib, che non ho avuto tempo, non ho avuto tempo di vederla, perché, praticamente, l'ho scoperta due giorni prima, di venire qua al PyCon, quindi non ho avuto proprio il tempo, però, da quanto ho letto, sembra migliore, quindi cercherò di implementarla. Come futuro, in futuro, spero di riuscire a fargli seguire le persone, cioè, riconoscere una persona, e quindi fargliela seguire, perché riconosce facce, occhi, la parte bassa del corpo, la parte alta, e anche tutto. Però, quella più accurata, è il riconoscimento facciale. E anche riconoscere le persone, tipo una faccia, la riconoscere un'altra, magari gli dà un nome, un'età, qualcosa di simile. vi faccio vedere un attimo la demo, che dovrebbe essere, sperando che funzioni, se si avvia, e qua, come potete vedere, riconosce già un paio di faccia, un paio di occhi. ovviamente, siccome, la, il, questo OpenCV, sarà carica molto il computer, infatti, come potete vedere, il mio computer è vecchiotto, vabbè, come potete vedere, va a scatti, anzi, ha un lag di un paio di secondi, anche cinque secondi, più o meno. Però riconosce, tutto sommato, occhi, facce, e, possibilmente, potrebbe anche riconoscere, la parte superiore del corpo, di qualcuno. Là sopra potete vedere, o, quante facce riconosce, in questo caso, nove, otto, ora nove. E, avevo provato, infatti, pure con un, un Mac, e andava più fluido. L'ha riconosciuto, ora, una parte superiore di un corpo, là sopra, poco fa ho visto. E, questa, in questo caso, sto usando Pi Game, per visualizzare l'immagine, e, OpenCV per il riconoscimento. In questo caso, prima, all'inizio, scrivevo su un file, l'immagine, e poi la facevo aprire, di nuovo, OpenCV, perché la catturavo, con Pi Game. Successivamente, però, ho capito, che potevo catturarla, con OpenCV, direttamente, e passargliela, in modo da rendere, un po' più reattivo, il tutto. Va bene, credo di aver finito, se ci sono domande. è durato un po' meno, è previsto, però, perché non avevo molto da dire, ho avuto solo tre mesi, per prepararlo, però, tutto sommato, è venuto bene. Ma non ce l'hai il bolide qui? Sì, ce l'ho qua. Questo qua, ho anche la Power Bank, mi sono dimenticato di dirlo, una Power Bank, da 20 Ampere, mi pare, che alimenta i Raspberry, praticamente, per 10 ore. La telecamera è qua sotto, messa, e il senso del trasone davanti, e qua, con esso tutti i motori. Potrei fare pure la prova pratica, però, non so se funziona ora, immediatamente. Beh, il cibo è all'una, quindi, se avete domande, davvero, potete farle. Ciao, complimenti per il progetto, è veramente una figata. Volevo sapere, cos'è spicciola, del robotino. Adesso, ci hai spiegato, che riconosce le facce, tutto quanto, ma, lo puoi muovere, lo utilizzi già, per qualcosa? ovviamente posso muoverlo, non lo utilizzo ancora per niente, però si possono fare riprese da, da terra, tipo, per far vedere, una, non so, ora, l'utilizzo pratico, non so proprio, come definire. Vabbè, l'hai fatto per, per curiosità. Sì, anche per imparare, perché volevo imparare, come, comandare i GPIO, del, del Raspberry, mentre mi piaceva l'idea, di fare un robottino, permesso di conoscimento facciale, e tutto. Ok, grazie. Prego. Quanto ti è costato il tutto, tra i vari pezzi, quanto è speso, più o meno? Allora, il Raspberry, già ce l'avevo, a casa, la chiavetta Wi-Fi, anche, lo chassis, l'ho comprato su ebay, insieme alle ruote, mi è costato 30 euro, la picamera 20 euro, i ponti hack 5 euro, più o meno, quindi, poi c'è, il power bank, che mi è costato, 20 euro, più o meno, quindi, in totale, 100 euro, 120. 120. Ciao, complimenti, intanto, per il progetto. Io, volevo farti una domanda, per capire, per rilevare, quindi, le collisioni, tu hai detto che usi, gli ultrasuoni, ti volevo chiedere, se avevi valutato, di pensare, di usare, un laser scanner, e se perché hai scelto, di usare, un sensore, per rilevare gli ultrasuoni. Non l'ho valutato, perché comunque, come ho detto, ho avuto poco tempo, infatti, lo chassis, praticamente, mi è arrivato, 10 giorni fa, neanche, quindi, siamo messi a montarlo, in fretta, a provarlo, quindi, ho preso, il sensore di ultrasuoni, che era la cosa più veloce, e più rapida, da utilizzare, in questo caso, da configurare, però, non so, magari, nelle prossime versioni, posso usare, un laser, invece del, sensore di ultrasuoni, magari, uso anche dei motori, più potenti, un Raspberry Pi 3, invece del 2, con il Wi-Fi, o lo Zero, che è più piccolo. Un pistrello, con due elettro, di sopra? Beh, direi, direi che te la sei cavata, gratulazioni, grazie. 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 grazie.